Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ART Siamo tornati su Crash Insane Trilogy Iniziamo il secondo mondo Gaywits Suppongo sia una roba tipo Aladino Vabbè Cercheremo Allora qui ci da un suggerimento sulle casse interruttori E lo sappiamo benissimo come funzionano noi in realtà Eccoci qua Gaywits Ci sono già delle ranel che non mi piace Bello Eh che cazzo Abbiamo già un Uka Uka Bene Bene Ci piace questo nuovo splash che abbiamo avuto Scusi C'è Merlino Salve Scusi Bello che è rimasto il bastone qui Eh mannaggia Ok Lì c'è una capretta Forse facciamo prima Ok Dicevo forse facciamo prima A fare la spanciata A fare la spanciata Quando stanno quei cosi Istante abbiamo guadagnato un'altra vita Bello Facile facile Grande Ok Accogliamo tutto Occhio alla capra Occhio al tipo con lo spadone Via Anche Merlino di nuovo Madonna La galina sappiamo benissimo che non si può ammazzare Non si può entrare qua dentro no eh E io nel dubbio ci provo raga ovviamente Altro tipo con lo spadone Eh Abbiamo rischiato perché poteva andare sul nitro e eravamo fritti Madonna Maledetto Eh no mi aspettavo che girasse proprio in quel momento Bellissimo che anche se li invecchi da sotto Rolgiano Scusi eh Toh Oppela Bello Mamma mia Attenzione il nitro Benissimo Altra vita Abbiamo anche livello bonus Quella rana si è suicidata Ma è difficile Spettacolo raga Oh io già ho visto Un piccolo tranello Per non farci prendere Una delle casse Mannaggia Grande Bene così Adesso questo non lo prendiamo Saltiamo sulla cassa Torniamo indietro Grande Vediamo Vediamo No dobbiamo farle comparire per necessità Ok Livello bonus Terminato Facciamo l'impazzire un po' Riusciamo a prenderla un'altra vita Oh sì che ce la facciamo Siamo a 26 vite Una sola Strike Cristallo Fichissimo No dai di nuovo Bello Sul nitro l'abbiamo buttato Tutte le casse distrutte Incredibile Proprio lui Torniamo al vortice temporale Vediamo quale sarà il nostro prossimo livello Dai Ovviamente se lo tira fuori dal pirulino La danza Evitiamo però Hang and might Hi Scusate La pronuncia Terrone Meridionale Che sono Oh vedete Questo è il livello tipo Aladino Che è il telefono Che fa il telefonino Ok Occhio Ok Che questo se si gira Sono dolori Pensavo si rompesse il soffitto Nesta Lì c'è il genio della lampada O meglio il tappeto volante Scusi eh Prendiamo Aku Aku Prendiamole tutte Le mele Altra vita Siamo a 37 Scusate Magari 27 Grande Non c'è più niente Qui Proseguiamo Bellissimo Che fa questo Mi sa che dobbiamo Putterlo fuori Così Checkpoint Grande così Proseguiamo Occhio che di là C'è una cassa a tempo Eh vabbè Sono stato un idiota Perché no Dai Ero uscito Dai Oh il cristallo Ciò significa che abbiamo quasi terminato Ma c'è il livello bonus Noi ci buttiamo a capo Noi ci buttiamo a capo fitto Ovviamente mi sono fregato Tutte le casse Eh non ce la faccio Aspetta Ok Dobbiamo aspettare Che compare Non possiamo fare Che la prendiamo prima Tutte le mele Mi direi che è già finito Ah ok No Bello Ok Grande così Finito il livello bonus 20 casse su 20 Grande Torniamo a livello Ortodosso Ok Ci agganciamo qui Tutti i frutti voompa Aspetta Vai To Aspetta No la nitro no però Madonna Madonna Ok Minchia ma tagliato i pantaloni Attenzione Ma sono un idiota Posso essere un idiota Sì Ok Bene così Aspettiamo Andiamo adesso Scusi eh Altra vita Ma qui non c'è niente Grande Quanti frutti voompa Abbiamo distrutto tutte Le casse di nitro Abbiamo avuto pure il cristallo Grande Grande così ragazzi Molto bene Allora Torniamo alla stanza Del vortice temporale Dai E' il secondo consecutivo Va bene ragazzi Allora noi ci lasciamo qui Ci vediamo nel prossimo episodio Con Un altro livello O altri due Di Crash Un bacione Ciao a tutti Ciao a tutti